capitolo 26 seianus si diede una pacca sulla fronte ah com'è andato il test lo scopriremo credo rispose coriolanus mandano gli elaborati a capitol city per la valutazione dicono che potrebbe volerci un po prima di avere i risultati passerai gli garantisse ianus lo meriti così incoraggiante così ipocrita così autodistruttivo come una falena verso la fiamma coriolanus trasali leggermente ricordando la lettera di pluribus non era quello che il decano high bottom aveva continuato a borbottare tanti anni prima quando aveva litigato con suo padre quasi le stesse parole lui aveva usato il plurale come falene verso la fiamma come se un intero sciame di falene stesse volando diretto verso un inferno tutto un gruppo votato all'autodistruzione a cosa si riferiva ma a chi importava era pur sempre il vecchio fuori come un balcone bottom drogato fino alla punta dei capelli e spinto dall'odio meglio non chiederselo nemmeno dopo cena coriolanus fece la sua prima ora di servizio di guardia in un hangar dalla parte opposta della base in coppia con un veterano che si appisolò all'istante dopo aver ordinato a lui di tenere gli occhi aperti si ritrovò con i pensieri fissi su Lucy Gray sul desiderio di vederla o almeno di parlarle gli sembrava uno spreco di tempo stare di guardia dove era chiaro che non succedeva mai niente quando invece avrebbe potuto stringerla tra le braccia si sentiva in trappola lì alla base mentre lei poteva vagabondare nella notte quanto voleva in un certo senso era meglio averla sotto chiave a capital city dove aveva sempre un'idea approssimativa di quello che stava facendo per quanto ne sapeva era possibilissimo che in quel preciso momento billy taupe stesse cercando di insinuarsi di nuovo nel suo cuore perché fingere di non essere almeno un po geloso forse avrebbe dovuto farlo arrestare dopo tutto rientrato nella camerata scrisse un rapido biglietto a ma lodando le sue prelibatezze e un altro a pluribus per ringraziarlo del suo aiuto e poi per chiedergli se poteva procurare delle corde musicali a Lucy Gray stanco per il test Coriolanus dormì profondamente e si svegliò già sudato nel torrido mattino di agosto quando sarebbe cambiato un po il tempo a settembre ottobre all'ora di pranzo la fila alla macchina del ghiaccio si allungava per metà del perimetro della sala mensa assegnato alla cucina Coriolanus si preparò al peggio ma scoprì di essere stato promosso da raschi a piatti ad affettatore e sarebbe anche stato un cambiamento gradito se non l'avessero destinato alle cipolle con le lacrime poteva convivere ma era sempre più preoccupato per l'olezzo che emanavano le sue mani nonostante la serata di pulizia dei pavimenti infatti continuava a suscitare commenti incamerata per l'odore che non riusciva a lavare via avrebbe continuato a puzzare così al momento di rivedere Lucy Gray venerdì mattina malgrado la calura e il suo disagio riguardo la presenza dei ricercatori della cittadella provò un certo sollievo al pensiero che quel pomeriggio si sarebbe occupato delle ghiandaie per quanto sgradevoli non lasciavano odori percettibili quando pertica collassò durante le esercitazioni il sergente ordinò ai suoi compagni di camerata di portarlo in ambulatorio dove Coriolanus ne approfittò per procurarsi un barattolo di borotalco per uno sfogo da calore che gli si allargava sul petto e sotto il braccio destro tienilo asciutto consigliò l'infermiere dovette soffocare l'impulso di alzare gli occhi al cielo non era più rimasto asciutto nemmeno per un istante da quando era arrivato in quel bagno turco che era il distretto 12 dopo un pranzo a base di panini ripieni di carne sobbalzarono nel camion fino a raggiungere il bosco dove le aspettarono i ricercatori di capital city con i loro camici bianchi mentre formavano i gruppi Coriolanus seppe che il mercoledì precedente bug in mancanza di un compagno aveva lavorato in coppia con la dottoressa Kay che era rimasta così colpita dalla sua agilità tra i rami da chiedere ancora di lui era troppo tardi per cambiare compagno perciò Coriolanus seguì il suo gruppo tra gli alberi tenendosi indietro il più possibile fu inutile mentre osservava bug portare una gabbia con le nuove esche sul primo albero e scambiarla con un'altra che conteneva una ghiandaia chiacchierona catturata la dottoressa Kay comparva alle sue spalle allora cosa ne pensi dei distretti soldato semplice snow intrappola come una di quelle ghiandaie intrappola come i tributi allo zoo fuggire in mezzo agli alberi non era pensabile ricordò la voce di Lucy Gray e quel consiglio che lo aveva salvato nella gabbia delle scimmie stendili si girò con un sorriso impacciato ma al tempo stesso divertito tanto per dimostrare che non gli importava di essere stato riconosciuto sa credo di aver imparato di più su panem in un giorno da pacificatore che in 13 anni di scuola la dottoressa Kay si mise a ridere sì c'è un mondo di insegnamenti da ricevere qui fuori mi avevano assegnato al 12 durante la guerra abitavo alla base dove sei tu adesso e lavoravo in questi boschi faceva parte del progetto delle ghiandaie chiacchierone allora chiese Coriolanus se non altro avevano entrambi un insuccesso pubblico in curriculum lo dirigevo rispose la dottoressa in tono eloquente un grave insuccesso pubblico Coriolanus si sentì più a suo agio lui aveva dato pessima prova di sé negli hunger games non in una guerra su scala nazionale forse sarebbe stata comprensiva e al suo ritorno avrebbe presentato un rapporto favorevole su di lui alla dottoressa goal se avesse fatto bella figura impegnarsi a comunicare con lei poteva ripagarlo ricordò che tutti gli esemplari di ghiandaie chiacchierone erano maschi e quindi incapaci di riprodursi tra loro allora questi sono proprio gli uccelli che usavate come sistemi di sorveglianza durante la guerra questi erano i miei piccoli credevo che non li avrei mai più rivisti l'opinione generale era che non avrebbero superato l'inverno i soggetti geneticamente modificati hanno spesso problemi allo stato selvatico ma i miei uccellini erano forti e la natura fa di testa sua disse bug arrivò al ramo più basso e passò loro la gabbia che conteneva la ghiandaia chiacchierona dobbiamo lasciarli nelle trappole per adesso non era una domanda solo un'osservazione sì può contribuire a ridurre lo stress della transizione concordò la dottoressa bagannui scivolò a terra e prese una gabbia nuova da coriolanus senza chiedere niente si avviò verso un secondo albero la dottoressa che lo osservò con aria di approvazione certe persone li capiscono proprio gli uccelli coriolanus pensò che lui non sarebbe mai stato una di quelle persone era inequivocabile ma di sicuro avrebbe potuto fingere di esserlo per qualche ora si accovacciò vicino alla trappola ed esaminò la ghiandaia che continuava a cinguettare tranquilla sa non ho mai capito bene come funzionassero questi animali non che si fosse mai sforzato di appurarlo so che registravano le conversazioni ma come facevate a controllarli sono addestrati a rispondere a certi comandi audio con un po di fortuna posso fartelo vedere la dottoressa chei estrasse dalla tasca un piccolo dispositivo rettangolare da quella specie di scatoletta sporgevano diversi tasti colorati che non recavano simboli di nessun tipo ma forse gli anni e l'uso li avevano consumati si inginocchiò dall'altra parte della gabbia rispetto a lui e studiò al volatile con più affetto di quanto coriolanus ritenesse appropriato per una scienziata non è bello coriolanus cercò di suonare convincente molto allora quello che senti ora questo cinguettio è il suo puoi imitare gli altri uccelli o noi o dire quello che vuole è in folle disse in folle chiese coriolanus in folle senti la sua voce echeggiare dal becco dell'uccello in folle fa ancora più paura quando la voce è la tua pensò ma rise come di contentezza quello ero io quello ero io ripete la ghiandaia chiacchierona con la sua voce e poi cominciò a imitare un uccello lì vicino eri proprio tu sì disse la dottoressa che ma quando è in folle ci mette poco per passare a qualcos'altro un'altra voce di solito una frase breve o un frammento del canto di un altro uccello qualunque cosa colpisca la sua fantasia per la sorveglianza dovevamo metterlo in modalità registrazione incrocia le dita pigiò uno dei tasti del dispositivo elettronico coriolanus non senti nulla o no immagino sia troppo vecchio ma sul viso della dottoressa key aleggiava un sorriso non necessariamente le frequenze dei comandi del dispositivo non sono percepibili dall'orecchio umano ma vengono recepite con facilità dagli uccelli hai notato quanto è silenzioso la ghiandaia chiacchierona si era ammutolita saltellava per la gabbia inclinando la testa becchettando qua e là in tutto e per tutto uguale a prima tranne che per il silenzio sta funzionando chiese coriolanus vediamo la dottoressa key schiacciò un altro tasto del telecomando e il volatile riprese il suo normale cinguettio di nuovo in folle e adesso vediamo cosa memorizzato pigiò un terzo tasto dopo un breve silenzio la ghiandaia cominciò a parlare oh no immagino sia troppo vecchio non necessariamente le frequenze dei comandi del dispositivo non sono percepibili dall'orecchio umano ma vengono recepite con facilità dagli uccelli hai notato quanto è silenzioso sta funzionando vediamo una replica esatta però no il fruscio degli alberi il ronzio degli insetti gli altri uccelli niente di tutto questo era stato registrato solo il nitido suono delle voci umane oh disse coriolanus piuttosto colpito per quanto tempo riescono a registrare più o meno un'ora nei giorni buoni rispose la dottoressa key sono programmati per perlustrare le zone coperte di macchia e in più sono attratti dalle voci umane li liberavamo nei boschi in modalità registrazione poi li recuperavamo con un segnale di ritorno alla base dove analizzavamo le registrazioni non solo qui ma anche nel distretto 11 nel 9 ovunque pensavamo che potessero essere utili non potevate piazzare semplicemente dei microfoni tra gli alberi chiese coriolanus si possono mettere cimici negli edifici ma il bosco è troppo grande i ribelli conoscevano bene il terreno noi no loro si spostavano da un posto all'altro la ghiandaia a chiacchierona è un dispositivo di registrazione organico mobile e a differenza di un microfono non è individuabile i ribelli potevano catturarne una ucciderla mangiarla persino senza trovare altro che un normalissimo uccello spiegò la dottoressa sono perfette in teoria ma in pratica i ribelli hanno scoperto cos'erano disse coriolanus come ci sono riusciti non ne sono del tutto sicura alcuni pensavano di aver visto gli uccelli di ritorno alla base ma le richiamavamo solo a notte fonda quando era pressoché impossibile intercettarli e solo pochi per volta è più probabile che non abbiamo coperto a sufficienza le nostre tracce non ci siamo posti il problema che le informazioni che sfruttavamo per agire provenissero esclusivamente dalle conversazioni captate nei boschi e che questo avrebbe potuto destare dei sospetti anche se le piume nere delle ghiandaie sono un'ottima mimetizzazione nel buio la loro attività notturna può aver costituito un indizio poi credo i ribelli avranno cominciato a fare esperimenti con gli uccelli passandoci informazioni fasulle per vedere come avremmo reagito si strinse nelle spalle o magari avevano una spia alla base dubito che sapremo mai la verità perché adesso non usa il dispositivo di richiamo per farle rientrare invece di coriolanus si fermò di colpo non volendo apparire in sofferente invece di trascinarvi fuori con questo caldo per farvi mangiare vivi dalle zanzare rise l'intero sistema di trasmissione è stato smantellato e a quanto pare adesso la nostra vecchia voliera è un magazzino per le provviste e poi preferisco essere io a occuparmi di loro non vogliamo che volino via senza più tornare giusto certo che no menti coriolanus lo farebbero non so bene cosa faranno ora che si sono adattati alla vita in natura alla fine della guerra li ho liberati lasciandoli in folle sarebbe stato crudele fare altrimenti un uccello muto avrebbe affrontato troppe difficoltà e alla fine non solo sono sopravvissuti ma sono riusciti ad accoppiarsi con le femmine di mimo così adesso abbiamo una specie tutta nuova la dottoressa indicò un volatile in mezzo al fogliame ghiandai e imitatrici le chiama la gente del posto e cosa sanno fare chiese coriolanus non lo so con esattezza le ho osservate negli ultimi giorni non sono in grado di ripetere le parole ma rispetto alle loro madri hanno una maggiore e più raffinata capacità di simulare la musica chiarì canta qualcosa coriolanus aveva un'unica canzone nel suo repertorio gemma di panem città potente nei secoli tu splendi ancora la ghiandaia imitatrice piegò la testa e cantò a sua volta niente parole ma una replica esatta della melodia con una voce che sembrava una via di mezzo tra uomo e uccello altre ghiandaie nella zona ripresero il motivo tessendolo in un intreccio armonico che gli ricordò ancora i covi e le loro vecchie canzoni dovremmo ucciderle tutte quelle parole gli sfuggirono prima che potesse fermarle ucciderle tutte perché chiese sorpresa la dottoressa che sono contro natura tentò di rigirare il commento in modo da farlo apparire quello di un appassionato di uccelli potrebbero danneggiare le altre specie sembrano abbastanza compatibili e sono diffuse in tutto panem ormai ovunque coabitassero già ghiandaie chiacchierone e mimi ne porteremo alcune a capital city e vedremo se riescono a riprodursi imitatrice con imitatrice se non ci riescono spariranno comunque nel giro di qualche anno se ci riescono cosa sarà mai un altro uccello canoro curiolanus concordò sul fatto che forse erano innocue dopo tutto per rimediare al suo brutale suggerimento passò il resto del pomeriggio a porre domande e a trattare gli uccelli con la massima delicatezza le ghiandaie chiacchierone non gli davano particolarmente fastidio sembravano abbastanza interessanti da un punto di vista militare ma le ghiandaie imitatrici avevano qualcosa che lo ripugnava diffidava della loro generazione spontanea della natura senza controllo dovevano estinguersi e presto anche alla fine della giornata anche se si ritrovarono in possesso di più di 30 ghiandaie chiacchierone nemmeno una imitatrice era caduta in trappola forse le ghiandaie chiacchierone sono meno sospettose dato che conoscono meglio le trappole in fondo sono state allevate in gabbia riflette la dottoressa che non ha importanza daremo loro ancora qualche giorno e se necessario useremo le reti o i fucili pensò coriolanus rientrate alla base lui e bug vennero scelti per scaricare le gabbie e aiutare i ricercatori a riporle in un vecchio hangar che sarebbe stato la dimora temporanea degli uccelli vi andrebbe di darci una mano ad accudirli finché non li riportiamo a capital city chiese loro la dottoressa che bug fece uno dei suoi rarissimi sorrisi in segno di assenso e coriolanus accettò con entusiasmo a parte il suo desiderio di fare una buona impressione i ventilatori industriali rendevano l'hangar un luogo fresco gli pareva meglio per l'eruzione cutanea che aveva sul petto e che nel bosco si era riacutizzata se non altro era un cambiamento prima del silenzio coriolanus e i suoi commilitoni tirarono fuori i dolci di ma e fecero un programma per i due fine settimana seguenti al forno nel caso la signora plint non avesse inviato pacchi con regolarità grazie alla sua abilità di negoziazione smiley divenne il loro tesoriere quindi accantonò con cura quanto bastava per due acquisti di liquore bianco e per le offerte da lasciare nel cestino dei covi dopo lo spettacolo quello che restava lo divisero per cinque coriolanus prese i sei pezzi di popcorn caramellati che ancora gli spettavano tenendone solo uno per sé gli altri li avrebbe conservati per i covi sabato mattina coriolanus si svegliò sotto una grandinata che martellava il tetto della caserma mentre andavano a fare colazione i suoi compagni si tempestarono di palle di ghiaccio grosse come arance ma a metà mattina uscì il sole più forte che mai lui e bug furono incaricati di prendersi cura delle ghiandaie chiacchierone nel pomeriggio pulirono le gabbie diedero da mangiare da bere agli uccelli sotto la supervisione dei ricercatori della cittadella anche se alcuni erano stati catturati in coppia o in terzetto ogni volatile aveva ormai la sua gabbia personale nella seconda parte del loro turno trasportarono con cautela gli uccelli uno alla volta fino a una zona dell'hangar in cui era stato allestito un laboratorio di fortuna le ghiandaie chiacchierone vennero numerate in anellate e sottoposte a verifiche per capire se rispondevano ancora ai comandi audio dei dispositivi elettronici tutte sembravano aver mantenuto la capacità di registrare e riprodurre la voce umana bug lontano dei ricercatori per non farsi sentire scosse la testa è un bene per loro questa cosa non lo so è quello per cui sono state progettate rispose coriolanus sarebbero più felici se ci limitassimo a lasciarle nei boschi disse bug coriolanus non era certo che avesse ragione per quello che ne sapeva lui di lì a qualche giorno le ghiandaie si sarebbero svegliate nel laboratorio della cittadella chiedendosi cos'era stato quell'orribile incubo lungo dieci anni nel distretto 12 magari sarebbero state meglio in un ambiente controllato senza più tante minacce da affrontare sono sicuro che i ricercatori si prenderanno cura di loro dopo cena tentò di non dare troppo a vedere la sua impazienza mentre aspettava che gli altri si preparassero dal momento che aveva deciso di tenere segreta la sua storia d'amore progettava di svignarsela una volta arrivati al forno rimaneva il problema di seianus aveva mentito sul denaro ma forse cercava solo di adattarsi ai suoi commilitoni squattrinati dopo l'incidente della piantina disegnata da billy era parso sinceramente pentito quindi c'era da sperare che si fosse reso conto del pericolo di fare da tramite con lì ma billy topo i ribelli non avrebbero provato ad avvicinarlo ancora dato che si era già dimostrato disponibile ad aiutarli era un bersaglio così facile la cosa più semplice sarebbe stata portarlo a trovare i covi una volta piantati in asso gli altri ti va di venire dietro le quinte con me gli chiese sottovoce quando arrivarono al forno sono invitato chiese seianus certo rispose coriolanus anche se in realtà avevano invitato solo lui forse era un bene però se seianus fosse riuscito a tenere impegnata moda ivori coriolanus avrebbe potuto passare qualche istante da solo con luce grey ma dovremmo sbarazzarci del resto della squadra cosa che si dimostrò semplicissima dato che il gruppo si era allargato dalla settimana precedente e il nuovo lotto di liquore bianco era particolarmente forte lasciati smiley bug e pertica a mercanteggiare trovarono la porta vicino al palcoscenico e uscirono su un vicolo angusto e deserto quello che luce grey aveva definito un capanno si rivelò una specie di vecchio garage che poteva ospitare circa otto macchine le grandi porte d'accesso erano chiuse da catene ma una più piccola all'angolo della costruzione proprio di fronte all'ingresso degli artisti era tenuta aperta da un mattone di cemento quando coriolanus sentì chiacchierare e accordare gli strumenti capì che quello era il posto giusto entrarono e scoprirono che i covi si erano appropriati di tutto lo spazio disponibile mettendosi comodi su vecchi copertoni e mobili vari le custodie degli strumenti e l'attrezzatura sparse ovunque anche con una seconda porta spalancata nell'angolo opposto sul retro il garage sembrava un forno la luce della sera filtrava all'interno da alcune finestre rotte colpendo la polvere che fluttuava densa nell'aria non appena li vide modaivori si precipitò da loro nel suo vestito rosa e la buonasera coriolanus si inchinò e le consegnò il pacchetto dei popcorn caramellati dolcezze alla dolcezza modaivori scostò la carta e fece un saltello su un piede solo prima di abbassarsi in una riverenza grazie mille ti canterò una canzone speciale stasera sono venuto qui sperando proprio questo disse coriolanus buffo come le conversazioni mondane di capital city sembrassero naturali con i covi va bene ma non posso dire il tuo nome perché tu sei un segreto ridacchiò modaivori corse da lucy gray che sedeva a gambe incrociate su una vecchia scrivania e accordava la chitarra sorrise all'espressione entusiasta della bambina ma in tono severo le disse tienili per dopo modaivori si allontanò saltellando per mostrare il suo tesoro agli altri componenti del gruppo seianus si unì a loro mentre coriolanus li salutava e si dirigeva verso lucy gray non c'era bisogno finirai per viziarla cerco solo di instillare un po di felicità nella sua testa e la mia di testa lo punzecchiò lucy gray coriolanus si sporse e la baciò va bene è un inizio commentò lei quindi si spostò e diede qualche colpetto al piano della scrivania al suo fianco curiolanus si sedette e diede un'occhiata al capanno cos'è questo posto in questo momento è il nostro camerino veniamo qui prima e dopo lo spettacolo e quando usciamo di scena tra un numero e l'altro ma di chi è sperava che non stessero violando la proprietà di nessuno lucy gray pareva indifferente non ne ho idea resteremo appollaiati qui finché non ci cacceranno uccelli sempre uccelli quando c'era di mezzo lei quando si trattava dei covi uccellini che cantavano si appollaiavano indossavano cappelli ornati di piume tutti passerotti le raccontò del suo incarico con le ghiandai e chiacchierone credendo che il fatto di essere stato scelto per quel lavoro potesse colpirla invece la notizia sembrò soltanto rattristarla mi dispiace pensarla in gabbia quando hanno avuto un assaggio di libertà disse lucy gray cosa si aspettano di scoprire in laboratorio non lo so se le loro armi funzionano ancora tirò a indovinare sembra una tortura avere qualcuno che controlla la tua voce in quel modo sollevò la mano a sfiorarsi la gola curiolanus la trovò un tantino melodrammatica ma cercò di apparire rassicurante non credo che esista un equivalente umano sul serio tu ti senti sempre libero di dire quello che pensi curiolanus snow gli chiese rivolgendogli uno sguardo interrogativo libero di dire quello che pensava sicuro che lo era beh entro certi limiti ovvio che non se ne andava in giro a sparare a zero su ogni sciocchezza a cosa si stava riferendo lei alludeva a quello che pensava di capital city e degli hunger games e dei distretti la verità era che lui appoggiava quasi tutto ciò che faceva capital city e il resto lo riguardava di rado ma se si fosse arrivati a tanto avrebbe parlato apertamente lo avrebbe fatto vero contro capital city come aveva fatto seianus anche se avesse comportato delle ripercussioni non lo sapeva ma si mise sulla difensiva sì credo che si dovrebbe dire quello che si pensa lo credeva anche mio padre ed è finito con addosso più fuori di proiettile di quanti potessi contarne con le dita cosa stava insinuando anche se lei non l'aveva detto coriolanus avrebbe scommesso che quei proiettili venivano dal fucile di un pacificatore forse da qualcuno vestito proprio come lui in quel momento e mio padre è stato ucciso da un cecchino dei ribelli lucy gray sospirò adesso sei arrabbiato no ma lo era tentò di dominare la collera sono solo stanco è tutta la settimana che aspetto di vederti e mi dispiace per tuo padre mi dispiace per mio padre però non sono io a dirigere panem lucy gray chiamò modaivori dalla parte opposta del capanno è ora i covi avevano cominciato a radunarsi davanti alla porta gli strumenti in mano sarà meglio che vada coriolanus scivolò giù dalla scrivania in bocca al lupo per lo spettacolo ci vediamo dopo chiese lei lui si spazzolò l'uniforme devo rientrare per il coprifuoco lucy gray si alzò e si passò la tracolla della chitarra sopra la testa capisco beh domani abbiamo in programma di fare una gita al lago se sei libero il lago c'erano davvero delle mete gradevoli in quel posto deprimente è tra i boschi c'è un po da scarpinare ma l'acqua va benissimo per nuotare rispose mi piacerebbe molto che venissi porta anche seianus abbiamo tutto il giorno voleva andare stare con lei per una giornata intera era ancora seccato ma si trattava di una sciocchezza lei non lo aveva accusato di niente in realtà la conversazione era sfuggita loro di mano nient'altro tutto per via di quegli stupidi uccelli gli stava tendendo una mano voleva davvero respingerla la vedeva così poco che non poteva permettersi di tenerle il muso d'accordo verremo dopo colazione va bene allora gli schioccò un bacio sulla guancia e raggiunse gli altri mentre uscivano dal capanno di nuovo nel forno lui e seianus si fecero strada fatica nel locale mal illuminato l'aria pesante di sudore e alcol trovarono i compagni nello stesso punto della settimana prima bug si era assicurato due casse anche per loro così coriolanus e seianus si sistemarono accanto a lui prendendo un sorso ciascuno dalla bottiglia comune mod ivory entrò in scena saltellando per presentare il resto della band la musica iniziò non appena i covi salirono sul palco coriolanus si appoggiò alla parete e beve dalla bottiglia per rifarsi del tempo perduto con il liquore bianco non avrebbe visto lucy gray dopo lo spettacolo quindi perché non alzare un po il gomito il nodo di rabbia nel suo petto cominciò a sciogliersi mentre la fissava così attraente così interessante così viva si sentiva già in colpa per aver perso la calma e quasi non riusciva a ricordare cosa gli avesse detto per farlo scattare forse niente era stata una settimana lunga e faticosa con il test gli uccelli e l'idiozia di seianus meritava di divertirsi butto giù parecchi altri sorsi e si sentì più benevolo verso il mondo le canzoni nuove e conosciute lo travolsero per un attimo si sorprese a cantare insieme al pubblico e si interruppe a disagio prima di rendersi conto che nessuno ci badava o era abbastanza sobrio da ricordare granché nel caso a un certo punto bar baser tamember e clerk carmine uscirono di scena in apparenza per fare una pausa nel capanno e lasciarono mod ivory sulla cassa davanti al microfono con lucy gray che sfiorava le corde della sua chitarra accanto a lei ho promesso a un amico che gli avrei cantato qualcosa di speciale questa sera perciò eccomi cinguettò mod ivory tutti noi covi dobbiamo il nostro nome a una ballata e questa appartiene alla bella signora che sta proprio qui tese una mano verso lucy gray che fece una riverenza accolta da qualche applauso sparso è una ballata davvero molto vecchia scritta da un uomo che si chiamava wordsworth l'abbiamo rimescolata un po perché abbia più senso ma dovete comunque ascoltare bene si premette l'indice sulle labbra e il pubblico si quietò coriolanus scosse la testa e cercò di concentrarsi se quella era la canzone di lucy gray voleva prestare particolare attenzione così avrebbe potuto dirle qualcosa di carino il giorno dopo mod ivory rivolse un cenno a lucy gray per l'attacco e cominciò a cantare con voce solenne di lucy gray spesso avevo sentito parlare e quando la deserta landa attraversai allo spuntar del giorno la bambina solitaria mi accadde di incontrare né compagni né amici lucy aveva laddove nessun altro osava lei viveva ed era la creatura più soave mai cresciuta sulla costa del monte dal vento battuta d'accordo allora c'era una bambina che viveva su una montagna e a quanto pareva aveva dei problemi a farsi degli amici ancora scorgi il cerbiatto giocare la lepre verde nel prato ma il dolce viso di lucy gray quello no non lo puoi più guardare e poi era morta come era morta aveva il presentimento che di lì a poco lo avrebbe scoperto questa notte sarà notte di tormenta ma andare in città bambina si deve prendi una lanterna per far luce a tua madre che ti segua nella neve certo padre lo farò con piacere il pomeriggio ancora non scolora l'orologio del paese batte le due appena ora e la luna a stento si può intravedere al che il padre volse il falcetto e di frasche raccolse un fastello al lavoro del giorno attese e l'uso in mano la lanterna prese spensierata come cerbiatta di monte un nuovo sentiero si aprì nel gelo cui piedi spargeva la neve sottile che nell'aria salzava quale velo la tormenta giunse anzitempo e lei sperduta su e giù si aggirò più di un colle lui si scalò ma la città non raggiunse mai un mucchio di parole senza senso per dire che si era perduta nella neve beh non c'era poi da meravigliarsi se la mandavano fuori con una tormenta quindi era probabile che fosse morta siderata gli infelici genitori tutta notte andarono in lungo e largo gridando ma non vera segno né suono che potesse la rotta indicare all'alba giunsero su una collina che sovrastava tutto il paesaggio e da lì videro il ponte di legno che attraversava un profondo burrone i lacrime gridarono tornando verso casa in cielo tutti ci rivedremo quando la madre nella neve scorse impressa di lucy l'orma dei piedi o bene avevano trovato le sue impronte lieto fine era una stupida storiella come quell'altra canzone che cantava lucy gray su un uomo che credevano fosse morto di freddo avevano cercato di cremarlo in un forno ma lui si era semplicemente scongelato e dopo stava benissimo sam qualcosa quindi giù lungo l'erta collina ricalcarono i piccoli passi entro la siepe spezzata del biancospino e accanto al lungo muro di pietra e poi attraverso un campo aperto le tracce erano sempre le stesse di seguirle non smisero né mai le persero fino a che al ponte non giunsero dall'innevata china rincorsero quelle orme una dietro l'altra sino al centro del passaggio ma oltre non ve n'erano più un attimo cosa era svanita nel nulla eppure certi sostengono tuttora che viva sia la piccina che in quella triste deserta landa la dolce lucy gray si veda ancora tra piane ed erba alta cammina e indietro mai guarda una canzone solitaria canta che unicamente al vento parla o una storia di fantasmi bu ridicolo beh si sarebbe sforzato di farsela piacere quando avessere visto i covi il giorno dopo però davvero chi chiamava sua figlia con il nome di una bambina fantasma per quanto se la bambina era un fantasma il suo corpo dov'era magari si era stancata di quei genitori disattenti che la spedivano in mezzo alle bufere di neve ed era fuggita per vivere libera ma allora perché non era cresciuta non riusciva a capirlo e il liquore bianco non aiutava gli ricordò la volta in cui non aveva capito la poesia a lezione di retorica e livia kerdio lo aveva umiliato davanti a tutti che canzone orribile magari nessuno l'avrebbe menzionata no l'avrebbero fatto moda ivory si sarebbe aspettata una reazione da parte sua allora avrebbe commentato che era splendida e si sarebbe fermato lì e se avesse voluto parlarne coriolanus decise di chiedere a seianus che era sempre stato bravo a capire a fondo i testi tanto per vedere se avesse qualche idea ma quando si sporse oltre bug scoprì che la cassa su cui prima era seduto seianus era vuota fuggita